Direi che è un bilancio complessivamente positivo. Innanzitutto perché per gli ingressi abbiamo visto che questa nostra divisione che abbiamo operato all'interno dell'istituto, dei tre ingressi con la possibilità per i ragazzi di avere la misurazione della temperatura con i termoscanner, sta funzionando e tra l'altro i ragazzi stanno migliorando di giorno in giorno, anche nel approcciarsi a questi strumenti che il primo giorno magari così vedevano anche con un po' di novità e quindi anche in maniera alcuni un pochino più imbarazzati. Per quanto riguarda le uscite, altrettanto direi che le cose funzionano. Noi abbiamo scandito l'uscita su due turni, quindi c'è un primo turno in cui i ragazzi dei piani bassi, del piano terra eccetera, di certe aule ben indicate escono e poi escono le altre classi, quindi ci sono due campanelle a distanza di tre minuti l'una dall'altra. Quello che invece stiamo rivedendo è il momento dell'intervallo, perché l'intervallo sicuramente anche per gli spazi che non ci sono, perché ci sono dei corridoi ad esempio nella parte nel primo piano, sono corridoi piuttosto ampi come voi potete vedere, ma nella parte alta i corridoi sono molto stretti e quindi si crea questo desiderio anche da parte dei ragazzi di vedere i compagni delle altre classi eccetera. Allora abbiamo proprio visionato proprio ieri insieme al docente che mi sta aiutando in tutta questa organizzazione che non è semplice, vedere un po' quelli che sono i percorsi per portare i ragazzi alternativamente al primo intervallo e al secondo, a seconda dei settori, per portarli fuori. Noi abbiamo circa 850 studenti, noi fin dal primo giorno abbiamo dato la possibilità a tutti di venire a scuola e sinceramente abbiamo avuto 9 assenti il primo giorno di scuola, tra l'altro alcuni ecco con assenze diciamo già preannunciate perché erano fuori per motivi sportivi, quindi di fatto ci siamo messi subito alla prova con i nostri numeri. Ecco, ora abbiamo anche la possibilità per i ragazzi, e già ci siamo attivati, di collegarci comunque, cioè anche se ci fosse un solo alunno assente che ha chiesto tra l'altro di fare didattica diciamo digitale, noi ci stiamo collegando, i docenti stanno collegando e quindi i ragazzi seguono regolarmente le lezioni da casa. Dovessimo trovare ragazzi con la febbre a scuola, ecco è chiaro che noi dobbiamo contattare la famiglia, la famiglia poi a sua volta si metterà in contatto col proprio medico e a quel punto è il medico che decide se ci può essere un caso sospetto e quindi attivare tutta la procedura che poi ci è stata data oppure appunto semplicemente come in questo periodo può capitare una semplice banale così rialzo della temperatura corporea per tanti altri motivi. Certo quello che noi ci raccomandiamo e io l'ho fatto proprio personalmente in ogni classe è quello di dire ai ragazzi che i comportamenti che stanno tenendo dentro la scuola e direi che è chiaro che c'è sempre qualcuno che bisogna richiamare, riprendere, però devo dire complessivamente bene ecco è chiaro che questi comportamenti loro non devono poi dimenticarseli completamente nel momento che escono da scuola quindi attenzione ragazzi, responsabilità e coerenza sono due parole chiave quest'anno.